Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trevi Meteo. Domenica ancora piogge temporali diffusi su gran parte dei settori centro-settentrionale del continente per il transito dalla perturbazione, mentre il tempo rimane migliore sul Mediterraneo orientale ancora protetto dall'anticiclone, dove anche le temperature saranno piuttosto calde con valori superiori ai 30-35 gradi, mentre altrove, vedete, l'area più fresca dilagherà, favorendo un generale calo delle temperature. Per quanto riguarda il nostro paese, dunque, ci attendiamo un miglioramento a partire da ovest, con prevalenza di sole e schiarite. Resulta in stabilità, invece, sulle Alpi orientali, sul Medio Adriatico e localmente anche al sud. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in forte diminuzione al nord, dove, vedete, saranno anche inferiori ai 14-15 gradi in pianura, mentre rimarrà più caldo al sud, sia nelle minime che nelle massime, ancora intorno ai 30 gradi. Altrove, invece, non si andrà oltre i 24-25 gradi, anche con il sole. Per quanto riguarda il tempo, dunque, ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata su gran parte di coste e pianure del nord, soprattutto al nord-ovest. Resulta in stabilità, invece, sulle Alpi orientali, dove nel pomeriggio non si esclude il rischio di qualche breve acquazione o temporale. Al centro, bella giornata di sole sui settori tirrenici, mentre sull'Appennino potrà svilupparsi qualche acquazione o temporale nel corso del pomeriggio, nel locale sconfinamento poi alla Pedemontana orientale e alle coste dell'Abruzzo. Per quanto riguarda il sud, infine, avremo anche qui una giornata buona, con prevalenza di sole, qualche nuvola in transito, ma a basso rischio di fenomeni, se non localizzati sull'area dello stretto di Messina, tra Sicilia e Bassa Calabria. Per adesso è tutto, maggiori dettagli sul sito www.trevimeto.com oppure scaricando la nostra app gratuita per smartphone e tablet. Grazie.